Dottore, allora l'associazione propone un altro incontro, questa volta un po' più a tema con la stagionalità. Sì, infatti ci tenevo a fare questo incontro in questa stagione entro l'estate proprio perché c'è l'argomento del sole e pelle. Perché come tanti sanno, ma ancora non tutti, il sole fa molto bene preso nelle dovute maniere, in tempi della giornata giusti, in orari giusti e con la protezione. Però c'è anche il sole che fa bene perché c'è il sole che per determinate patologie è una cosa benefica, è una terapia in alcuni casi. Quindi lo spiegare, come prendere il sole senza farsi del male, penso che questo sia una cosa molto utile in questo periodo e soprattutto dalle nostre parti dove il mare è una cosa importante. L'incontro avverrà sempre all'Hotel Flaminio, nella sala conferenza dell'Hotel Flaminio, giovedì prossimo 27 giugno alle ore 21 e parteciperà e sarà il relatore unico il dottore Donato Calista che è il responsabile dell'ambulatorio del melanoma dell'ospedale Bufalini di Cesena, un dermatologo che si occupa di sole e pelle e si parlerà sia di patologie melanocitiche, quindi anche che possono causare purtroppo il melanoma che è un rischio importante, ma anche non melanocitiche come spino cellulare e altri tipi di tumori che soprattutto nell'età adulta quando uno non si comporta bene dal punto di vista della radiazione solare durante la gioventù possono venire e ne stiamo vedendo tantissimi in questo periodo. Grazie a tutti.